E cosa non gli piace del suo sorriso? Il colorito, scuro, non è un colorito naturale, la forma dei miei denti allungata. Riesce a sorridere con tranquillità? No, un sorrido, un rido rilassata. Come mai hai deciso di intraprendere questo percorso? Avevo sentito parlare dello studio tramite amici, parenti e curiosità, guardai un po' la pagina, la pagina Instagram dello studio e ho preso un appuntamento. E poi arrivata qui, non so, a pelle, mi sono fidata. È la prima volta in cui mi sono fidata di uno studio dopo averne cambiati tantissimi. E ci sono rimasta. Spero di avere un effetto finale. Wow. Wow, quello che mi aspetto, in effetti. Wow. Grazie a tutti. Tiana, come va con il nuovo sorriso? Benissimo. Si vede. Sorrido di più. E' soddisfatta di questo nuovo sorriso? Molto, molto e sorrido naturalmente, spontaneamente, non più trattenuta. Grazie a tutti.